L'ANAS ha annunciato ormai da qualche giorno che al più presto inizieranno i lavori per la messa in sicurezza della Galleria Limina della strada di grande comunicazione Ionio Tirreno. Ciò che è importante e urgente prima che iniziano i lavori per la messa in sicurezza è il ripristino degli impianti di illuminazione e ventilazione della Galleria Limina, lunga 3,2 km della strada statale 682 Ionio Tirreno e la sistemazione del tratto della strada provinciale 5 X281 Mammola passo della Limina e passo della Limina strada statale 682 svincolo Limina per evitare disservizio agli automobilisti, in particolare del comprensorio della Lucrede e della Piana. Di fatto il tratto della strada provinciale 5 X281 Mammola passo della Limina e passo della Limina strada statale 682 svincolo Limina è l'attuale strada alternativa che viene utilizzata in caso di emergenza quando viene chiusa la Galleria Limina per manutenzioni, incidenti e altro sin dal 1990, anno di apertura della Ionio Tirreno. Per reggere il numeroso traffico il percorso alternativo deve essere sistemato e asfaltato, va rivista in particolare la segnaletica stradale orizzontale, verticale, direzionale, sistemare eventuali segnali lampeggianti e dopo possono partire i lavori per la messa in sicurezza della Galleria. Il percorso alternativo della strada provinciale 5 è di circa 13 km, per percorrerli ci vogliono circa 25-30 minuti. Il percorso attuale, dalla Ionio Tirreno, Mammola, Svincolo, Limina, Svincolo, con passaggio dalla Galleria Limina, è di circa chilometri 10, con un tempo di percorrenza di circa 10 minuti. In realtà, facendo la differenza, il tempo effettivo che si impiega dal percorso alternativo è di circa 20-25 minuti. La sistemazione del tratto della strada alternativa serve anche in chiave futura per eventuali chiusure, per manutenzioni, incidenti o altro della Galleria Limina e della strada Ionio Tirreno. Si può sollecitare che i lavori della Galleria Limina, eventualmente, iniziassero dal lato 5 Frondi e dal lato Mammola, e che aumentano i turni oltre alla mattina, se i lavori di pomeriggio e la notte, così i lavori saranno completati velocemente. Un appello, dunque, ai responsabili dell'ANAS, ai sindaci della Locride e della Piana di Rosarno, Gioia Tauro, al Presidente della provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa, al Presidente dell'Unione dei Comuni della Vallata del Torbido, al Prefetto e a tutti i politici, perché si intervenga prima, che iniziano i lavori della Galleria Limina, a sistemare il tratto della strada provinciale 5, X281 Mammola Passo della Limina, e Passo della Limina, strada statale 682, Svincolo Limina, per facilitare così gli automobilisti, di raggiungere la fascia ionica e quella tirrenica in piena tranquillità.